75 anni di produzioni liriche, questo è il luglio musicale e questo vuol dire lavorare sotto quell'egida, immaginare cartelloni con spettacoli che sappiano portare la gente a teatro. Walter Roccaro, direttore artistico dell'ente, ai nostri microfoni ci racconta della stagione primaverile ormai alle porte e delle novità in programma per l'estate. La programmazione di aprile segna lo stile di tutta la stagione, ovvero quest'anno si darà spazio all'opera lirica in termini di condivisione di stili diversi, avremo delle opere contemporanee come appunto Le Sette Parole di Cristo, Falcone e Borsellino, assieme a grandi titoli del repertorio romantico, e quindi verdi, puccini e rossini, e un'attenzione anche alla musica sinfonica e strumentale. Un aspetto importante che voglio sottolineare è il ripristino del concorso di Stefano nella sua veste originaria, così come concepita da Francesco Braschi. Il cartellone delle tre opere che verranno presentate tra fine giugno e agosto sono Macbeth di Giuseppe Verdi, con la regia di Pierluigi Pizzi, Il barbiere di Siviglia, sotto la direzione del maestro Daniele Agiman, con lui abbiamo deciso di presentare a Trapani una versione poco eseguita del barbiere di Siviglia, cioè la versione Bologna 1816, che prevede degli aspetti di particolare interesse che diventano anche volano, non solo culturale, ma anche turistico, perché saranno sicuramente attrattive rispetto ai rossiniani europei, che sapendo che a Trapani in estate verrà rappresentata questa versione, sicuramente correranno. Il cast sarà interamente scelto dal concorso di Stefano, che ha una commissione di assoluto prestigio internazionale, presieduta addirittura da Ernesto Palasio, che è il sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro. E poi il terzo titolo sarà Bohème di Puccini. Il mio sentire è di un ente che è presente sul territorio, lavora e ha uno staff altamente qualificato all'interno, fatto da professionisti, ma anche da un direttore artistico di grandissime esperienze e professionalità, e un CDA altamente qualificato. E questo ha permesso di affermarsi nel mondo della cultura della città, e anche di non soltanto offrire un'offerta culturale di alto profilo, ma anche di farsi da sostegno di tante iniziative culturali che il territorio esprime, e al quale Luglio Musicale ha offerto sostegno e anche valorizzazione. Noi abbiamo a brevissimo una grandissima manifestazione, un concorso internazionale pianistico, avremo il Trapani Comics, avremo rassegne letterarie, festival cinematografico e tantissimi altri, che non organizza il Luglio, ma il Luglio sostiene dal punto di vista della collaborazione. Quindi non soltanto un ente teatrale con 75 anni di età è in grado di offrire spettacoli, opere di altissimo profilo come sono quelli che stiamo presentando, ma anche un aiuto reale e concreto a chi in questo territorio vuole fare cultura e la vuole fare bene.